Amici di Autodigest, ciao dalla vostra Antonella Salvucci, oggi voglio presentarvi la nuova versione diesel di un'auto molto interessante, la Mitsubishi Eclipse Cross. E' un SUV Coupé molto versatile, la redazione di Autodigest l'ha provata per voi e l'ha provata veramente a lungo in tutte le condizioni, dalla montagna, neve, città, autostrada e l'ha trovata veramente affidabile, veramente sicura. Ed ora lascio alla redazione il compito di raccontarvi come va, ci ritroviamo dopo, bye! Eravamo già rimasti impressionati dalla piacevolezza di guida della versione a benzina, dobbiamo dire che col diesel aumenta perché è un motore molto pronto e il cambio automatico Aisin a 8 rapporti aiuta molto, veramente su strada la vettura è brillante, piacevole, tiene bene la strada, ha anche le quattro ruote motrici, quindi anche su fondi difficili andrebbe benissimo, ma è il piacere di guida, ancora che domina il grande spazio interno, la posizione di guida alta poi aiuta molto. In autostrada è il suo regno, confortevole, veloce, potrebbe superare i limiti permettendo il 190 all'ora agevolmente e soprattutto la stabilità che impressiona, si viaggia con un senso di sicurezza notevole. Arrivati poi in città o nei sobborghi, la posizione di guida alta e la facilità di parcheggio aiutano ulteriormente ad apprezzare questa bella vettura, da cui estetica, come vediamo, è rimasta assolutamente inalterata rispetto alla versione a benzina, piacevole, sportiva, ricordiamo che viene definita anche su un coupé. L'interno è molto ben rifinito e adesso il consumo si fa nocevolmente 7 litri per 100 km. Ebbene amici, adesso che l'ho provata anch'io, devo dire che è davvero piacevole da guidare, volendo ci sono anche le palette qui direttamente dal volante. Ciao e buona guida, buon viaggio a tutti!